Ho tagliato i capelli, di nuovo, ho tagliato i capelli e me li taglierò, di nuovo, tagliare e ancora tagliare, amore e ancora amore. Il capello io penso sia il punto di partenza di tutta la mia pratica artistica. Io parto dal corpo, dal mio corpo ovviamente perché racconto la mia storia attraverso il mio lavoro. Tutto il lavoro che svolgo parte dalla mia identità, come dicevi prima, quindi appunto cerco attraverso dei lavori di creare questo spazio di negoziazione che cerca di in qualche modo mettere in dialogo queste dualità. Ho realizzato un lavoro che si chiama Don't. Ho ripreso questo titolo un po' da questo movimento, neppi, nato negli estates, no? Don't touch my hair. Ed è un'installazione, qui appunto vedete un cavalletto sul quale è appoggiata questa ciocca di capelli e sul muro dietro ci sono delle ciocche, delle trecce e una ciocca che poi alla fine i capelli sono, è uno spazio intimo diciamo, no? Fanno parte del nostro corpo, quindi se una persona ti tocca è come se ti toccassero un braccio, un piede, no? Quindi il titolo è riferito a questa, questa azione, a questo privilegio bianco, questa necessità diciamo, giustificata da loro, da privilegio bianco, di invadere, no? Diciamo, diciamo, uno spazio personale. E poi è poi tutta una riflessione legata anche un po' al colonialismo, diciamo, alla violenza che c'è stata con le persone colonizzate, no? Cioè, quindi questa idea di impossessarsi del corpo di una persona. Cioè, una canzone, in una canzone, Sara Tavar dice, in creol penacion, carapinia naseo. Penacion significa piedi, piedi per terra, dove cion è molto più di per terra, nel senso è proprio terra, no? E carapinia naseo, il nostro afro al cielo, che in realtà all'interno della nostra ancestralità esiste un legame. Noi non siamo essere disconnessi da tutto ciò che è l'universo e la natura intorno a noi, no? Quindi, siamo esseri radicati nella terra, che in connessione con il cielo e con l'universo. Quindi, mi piace molto questa immagine, anche questa cosa nel libro, dove questi capelli permettono questo estendersi, estendere della nostra esistenza a contatto con tutto ciò che è la natura. E' chiaro che all'interno di una cultura occidentale, che da secoli sfida i limiti della natura e quasi si colloca in una posizione di superiorità, l'essere umano in occidente manipola e forza costantemente la natura, no? Abbiamo visto tantissimi esempi di persone che si appropriano del colore, dei capelli, però è interessante notare come un certo tipo di capelli, una certa acconciatura vista su un corpo nero come africana, come etnica, su un corpo bianco diventa bella. O un certo corpo è letto come nero, però su una donna bianca diventa bello. Il problema è che quando sono le donne nere ad avere certe acconciature, ricordiamoci che in alcuni luoghi di lavoro non si possono avere certi capelli, non si possono avere dreadlocks, non si possono avere afro, non si possono avere trecce, che per certe persone è un'acconciatura naturale, è anche la forma naturale del capello. Essere abbronzata a gennaio non solo è un segno estetico bello, ma è anche un segno della tua classe, perché vuol dire che tu a gennaio hai avuto modo di andare in qualche parte del mondo, in cui c'era il sole, hai fatto una vacanza e sei abbronzata, e adesso torna in inverno abbronzata in Italia. Quindi è interessante veramente questa manipolazione del colore, come il colore può essere usato in vari corpi e su ogni corpo è letto in modo diverso. Nel proprio rapporto ai capelli c'è un grosso ruolo degli occhi con cui ci si guarda. Il razzismo lavora proprio sul fatto di costringerci a indossare degli occhi bianchi, gli occhi della bianchezza e aspettarci che quello che vediamo corrisponda appunto alla bianchezza, alla norma bianca. Io ho avuto dreadlocks per dieci anni. Quando è nata mia figlia, mano a mano che mia figlia cresceva, e anche lei confrontata con questa questione dei nostri capelli che fanno questo movimento che va in su e non in giù, e i miei dreadlocks comunque andavano in giù, ho sentito che lei aveva bisogno di un riferimento e nessuno, meglio di sua madre, poteva rappresentarlo, quindi ho deciso di tagliarmi i dreadlocks e di farmi crescere i capelli in su. Adesso sono in una posizione in cui tanta gente mi chiede di toccarmi i capelli come se fossi un antistress, e mi fanno tanti complimenti che bei capelli, che bei capelli. È importante sapere che dietro a questi capelli c'è tanta sofferenza e tanto conflitto proprio interno nel paragonarsi all'idea di bellezza occidentale. Servono modelli, io spero di essere sempre più possibile la sorella maggiore di tante ragazze che in questo momento magari stanno piastrando i capelli, bruciando i capelli, stanno odiando per come sono, perché in realtà ci sono tante bellezze ed è giusto anche volersi bene così come si è, senza retorica, proprio così. Detto questo, amo i miei capelli e vi saluto. Ho tagliato i capelli e ho imparato a gridare, a piangere e camminare. Ho imparato ad amare me, amare. iscriviti al nostro canale